Mi chiamo Maria Corda, siamo a Dorgosolo, sono la terza di sei figli. Mio padre era un finanziere in pensione già da quando noi siamo nati. E' stato il primo forse o uno dei primi ad Dorgosolo ad andare fuori dal paese per cercare un altro tipo di lavoro che non fosse il pastore o sommassarvi. Mio padre era del 1905 ed è andato via da Dorgosolo che aveva appena vent'anni. E' stato molto criticato per questa sua scelta. Io credo che mio padre abbia fatto una scelta coraggiosissima perché poi si è rivelata vincente nel senso che non è come oggi che se un ragazzo va fuori poi i soldi se li tiene. I soldi, a parte quello che gli serviva a lui per poter vivere o comprarsi qualcosa, togliersi qualche sfizio, li mandava tutti in famiglia. Quindi il reddito della famiglia di mia nonna con l'aiuto dello stipendio di babbo era un reddito abbastanza buono, diciamo. Torna dopo 22 anni di servizio. Allora si poteva andare in pensione così giovani. Mamma diceva sempre, quando uno andava in pensione, i vi la godas o mente si la godia anzeleddu, dai 42 anni, fino a 96 anni. Forse è un po' troppo, però mamma non erava a gusto. Comunque babbo poi si sposa nel 1957, ha 52 anni, se non vado errata adesso, e si sposa con mamma, Pasqua Rosa Sorighe, che aveva 31 anni mamma. Per i tempi erano molto molto anziani, sia mio babbo che mia mamma. In genere si sposavano molto più giovani. Babbo ricorda sempre che lo prendevano in giro, lo prendevano in giro perché dicevano Andrai col baston, andai su va eddaca, un panzare giustizio, innosi e soli. Poi lui, quando io poi a 26 anni ho avuto un figlio, una figlia, e lui l'accompagnava all'asilo, questo se lo ricordava sempre, e diceva Quindi, l'ambiente familiare è un ambiente familiare bellissimo, una educazione, come posso dirvi, molto aperta per i tempi. Se noi pensiamo che mamma era del 1926, allora io negli anni, nel 75-76 avevo 15 anni, e quindi erano quei tempi in cui non è che ti facevano uscire tanto, dovevamo rispettare gli orari, si usciva di pomeriggio, ovviamente non potevi uscire di sera, Però penso che mamma fosse una persona molto, non è giusto neanche permissiva, molto aperta alle novità e a tutto quello che la vita, insomma, in quegli anni proponeva. Mamma era della famiglia Muscao-Sorige ed era la famiglia che allora, proprio come lavoro, facevano quello che io oggi faccio per tenere viva l'arte, diciamo più che altro, ed era la famiglia dei Mannai-Sorige, Mele e Cossu, adesso tutti i nomi non me li ricordo, comunque questa famiglia, Sorige, deteneva quella che è l'arte della setta ad Orgosolo. Quindi da sempre noi in casa, io ricordo fin da bambina, questi allevamenti di bacco da setta enormi, a me sembravano enormi, e questi brucchi che, insomma, i sisostri. Allora, le case in genere erano fatte in questo modo prima e anche se quella di babbo e mamma era un po' moderna. Adesso non so, potevano essere 80 metri quadri, diciamo, no? e c'era il primo piano dove c'erano le cantine, il secondo e il terzo piano dove magari c'era bagno, cucina, due camere da letto, poi su magari un altro bagno e camere da letto. L'ultimo piano, già giù, aspetta che in sardo non mi viene adesso, di sostre, era quel posto dove si allevavano i bacchi da setta e dove non era, era tutta una stanza, capito? Con le travi in legno, le ricordo benissimo queste travi in legno, poi questo tetto l'hanno disfatto negli anni settanta, queste travi in legno e con tutta la canna, proprio una sopperta anti-Anna Ramoso. E qui noi avevamo questo spazio in me, che erano almeno 70 metri quadri, per poter giocare, era tutto nostro, eh? Costruivamo le nostre case con la legna, perché poi c'era il fuoco, c'era il forno, c'era il forno per il pane, quindi c'erano tutti gli arnesi che servivano per il pane, cose che non dovevamo toccare, ovviamente. Con la legna facevamo gli appartamenti, ognuno si faceva il suo, e giocavamo così, soprattutto, questo succedeva in inverno, eh? Quando magari ci facevano uscire meno, anche se anche d'inverno ci facevano uscire, eh? Eravamo, noi abbiamo, io ho vissuto un'infanzia per strada, più che per strada, il satanca e mereu, il sostresarvores, che oggi è tutto costruito. A mamma bastava che chiamasse Maria, Franca, torrandese, e noi arrivavamo a casa. Un'infanzia, come vi dicevo, molto bella, bella anche perché erano quei tempi dove tutto il vicinato era famiglia, eh? Io ho avuto, a parte mamma, che è stata una grande maestra per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda la vita, per quanto riguarda poi tutto che ne conseglie, quella che è la seta, il baco da seta, e tutti i suoi preziosi consigli per queste cose, ho avuto anche delle vicine molto, molto bravi, diciamo, che ci prendevano quasi, mia sorella diceva sempre, ma cosa dici di mamma ce n'è una? Io di mamma ne ho tre, cominciando da insieme a Michela Battassi, siamo a Lena, insieme a Michela Battassi oggi è quella signora che ha 105 anni e deve farne 100 sì, eravamo vicini di casa. Il mio rione è Aspiri, uno dei rioni più antichi, diciamo, di Orgosolo. E niente, di pomeriggio con questi signori che ci raccontavano queste storie dei loro tempi, di quando c'era la fame, di quando non avevano vestiti da mettere, di come era difficile prima vivere. Io mi ricordo sempre che a zia Mallena Pisano, era simpaticissima questa donna, una meraviglia di donna, gli dicevo, io ero piccolina, gli dicevo, bah, siamo a lei, non lo so zenerane per non sponere a timere, è stata apposta, non è possibile, io non avevo reso, osa e mandare, lei faceva, e apposta si era, per me, a mia, gli diceva, non mi dai a mari, non vai a nulla. A noi sembrava strano non trovare cosa da mangiare. Allora, i primi, qui fuori, allora le donne in genere dopo le tre e mezza, non vi racconto quello che ci costava il pomeriggio perché mamma voleva farci dormire e non dormivamo mai, quindi ci prendeva sempre questa usturizu che non finiva più, allora si alzava, si arrabbiava, poi magari ci faceva chiudere uno in un posto o in un altro, comunque fino ad arrivare almeno alle tre e mezza, quattro del pomeriggio, questo in estate. A quell'ora uscivano anche tutte le donne con le cose che avevano da fare, c'era chi ricamava, chi arganzava, chi ramendava, chi faceva l'uncinetto, chi faceva con i ferri, insomma, tutti quei lavori che una poteva fare. E' da lì che io ho iniziato anche un po' a imparare, ad esempio, a fare l'uncinetto, ma adesso non mi ricordo, chissà se ce li avevo cinque anni, sei anni, più o meno redda, me l'aveva insegnato Zia Mallena, questa signora appunto simpaticissima che poi ci diceva sempre, a desabire, a sì che divento milionaria, mi canto a New York, a Nova York, una rava di essa, mi pio s'ascensore, mi estio s'amminigonna, qui era una signora grassa, qui da noi bambini sembrava proprio una cosa, ma a desabompiare a olor maduro orgo, una rava di essa, proprio una bellissima infanzia, diciamo. E vi dicevo dei sisostri, sisostri era per, si faceva il pane, c'erano le proviste sia della frutta perché babbo poi è diventato pastore, io mi ricordo anche che portavano anche gli annellini a casa, se era soprattutto in inverno o magari quelli che avevano perso la mamma, magari poi li macellavano, non lo so, però li sistemavano su una stanza, mi ricordo che un anno avevano comprato proprio una stufa a gas per poter riscaldare questi agnellini. E niente, un'infanzia molto bella, tranquilla, problema di nessuno genere, si giocava con i ragazzi del vicinato, come vi dicevo si andava molto nelle periferie, che poi periferie non erano perché bastava ad una vo e tornavamo, c'erano pochissime macchine ovviamente, quindi non c'era quel pericolo che oggi una mamma può avere anche per far uscire il bambino. E poi c'era anche questo, c'era che il vicinato erano custodi dei bambini secondo me, cosa che oggi non si può fare, perché se oggi tu hai un bambino che sta facendo qualcosa che non va bene, gli dici oh guarda che non devi farlo, magari alla mamma non piace, quindi molte volte te ne stai zitta, lì no, lì se una mamma doveva andare all'orto, doveva andare a fare commissioni, i bimbi glieli teneva l'altra signora che magari c'era che stava ramendando, non baglia da problema di usso genere. E niente, questo sarà insomma fino a sei anni, sei, sette anni. La scuola, allora i primi tre anni, come posso dirvi, non sono stati belli. Non perché non mi trovavo a scuola, io ero una delle più brave, però purtroppo avevamo una maestra che se chiedete ai miei amici della leva, vi diranno cosa pensa Maria della maestra che avevamo fino alla terza elementare. Erano altri tempi dove le mamme per il tipo di didattica che usavano le maestre non eravano a nuda, perché quello che faceva la maestra andava bene, però questa era un po' esagerata. La scuola io l'ho iniziata secondo me in quarta elementare con una bravissima maestra, adesso non mi ricordo il nome, e si chiamava maestra Fadda e abbiamo fatto con maestra Fadda la quarta elementare e con poi maestra Pitalis, sempre di nuovo una maestra bravissima ma proprio brava, che ha recuperato quello che nei primi tre anni, tutte e due, questi due maestri, nei primi tre anni non avevamo fatto. Ed eravamo arrivati anche con gli altri amici diciamo a una base abbastanza buona. Poi c'è da dire questo, allora io perché a scuola ero un po' bravina, non brava, perché io avevo due fratelli un po' più grandi di me e quando loro facevano i compiti li facevo anch'io con loro, per modo di dire, quindi magari in prima elementare sapevo già scrivere, non sapevo magari leggere, però ecco, però insomma purtroppo per tante mie amiche che magari erano le più grandi o che non avevano cugini con cui poter, è stato poi difficile riuscire a fare quei due anni, quei tre anni che in pratica con questa maestra avevamo perso. Comunque chiudiamo la parentesi sulla scuola. Nel periodo di aprile-maggio era sempre periodo di allevamento di bacchi da setta a Casano e utilizzava a mamma risostre, quella stanza che vi dicevo che noi utilizzavamo per giocare durante tutto l'altro periodo dell'anno. Questa stanza a maggio, a fine maggio e ai primi di giugno, era piena, a zeppa di vermi. Poi loro non usavano le cassettine come facciamo noi, no? Usavano le ceste grandi di raffia che adesso non si usano più, prima si usavano per il pane, boh, non li so perché la sponiano, proprio non è sprovvista, comunque usavano queste. Quindi, oh, tutti sterri, dei tavolini bassi potevano mettere. E quindi voi immaginate questa stanza enorme, piena di vermi, prena, ver, mezzo. Per noi era una cosa normalissima. Io una volta tutta felice, e questo era in quarta elementare, ci ho portato una mia amica. Questa mia amica non li aveva mai visti. Quando l'ho portata in questo posto, per me così bello, per lei così macrabo, perché era pieno di vermi, questa qui è scappata. Mi era, Mari, non mi torna a sapere, prusa, domo tua, non mi vezzo, pruso. Si era proprio arrabbiata e si era anche quasi offesa perché io credevo di fargli vedere una cosa bella, perché per noi era normale. E niente, le medie sempre fatte ad Orgosolo. Anche alle medie ho avuto dei professori molto bravi. tra cui ricordo Francesco Del Casino, Giovanni Moro, un professor Piccariello che era un professore di Avellino, bravissimo. Era il professore italiano storia e geografia, proprio molto bravo. E niente, tutta l'adolescenza, sempre qui a Orgosolo, abbastanza bene. Ho fatto gli studi di... Prima c'era un istituto che durava tre anni, poi io ho fatto anche solo i tre anni, per assistenti all'infanzia. Quindi ho fatto quelle scuole, però poi non... Sarà perché a casa a me piaceva stare. Nel vostro questionario c'è scritto quando hai impastato per la prima volta la pasta. Io ho fatto il sugo in quarta elementare la prima volta. Ero molto brava e in cucina. E poi c'era questo. C'era che mamma, siccome lavorava, lei ricamava, poi tesseva. Quindi era una donna che lavorava. E quindi lei diceva, sì sì, fai fai. Di elogio a una bambina di quarta elementare, sembra una cosa un po', però ecco noi vivevamo in quel modo. E lei poi era una persona, come dire, se questa volta non ti è venuta bene, la prossima volta ti verrà meglio. E a me piaceva. Poi un'altra persona molto importante della mia vita in quel periodo di tempo è stata Zia Rittasio. Era una donna sempre triste. Non stava bene fisicamente. Secondo me, però lo dico oggi, secondo me era depressa. Però erano quelle cose che prima non si riuscivano a curare. Lei non aveva mai voglia di fare niente. Quindi magari veniva anche un po' criticata perché se ne sta tutto il giorno lì senza fare niente. Per riuscire deve anche farla qualcosa, anche se gli fanno male le orecchie o se gli fa male la testa, però qualcosa deve farla. Quindi non veniva capita. Anche questa signora mi lasciava, era cugina di mamma, mi lasciava molto fare quello che volevo. Lì ad esempio la pasta potevo farla da sola, con lei che poi magari un po' mi aiutava. Comunque, niente, come vi ho detto, una bellissima infanzia. Altre persone molto importanti della mia vita, che sono state poi come nonne quasi, diciamo, sono state altre due sorelle di babbo, sia Antonia Corda e sia Sant'Eda Corda. Erano delle ottime ricamatrici, soprattutto sia Antonia, era bravissima. Secondo me sia Antonia in me, che ha visto che potevo diventare una brava ricamatrice, una brava tessitrice. Pensa che, adesso non mi ricordo l'età, comunque ero piccola, forse in quinta, in quinta elementare, e non era tutti allora, perché ti parlo degli anni, boh, 72, che si dava il pezzo di stoffa di prunella, la prunella è quel tessuto che si utilizza per fare santalena del suo stumene di Orgosolo, con i fili di seta originali, i colori originali, mi aveva detto come dovevo fare, senza disegno, me l'aveva indicato lui, lei che dovevo dividere la stoffa a metà, che dovevo poi iniziare con l'ago, puntare l'ago in questo modo, puntarla di nuovo qua, qua e qua, per poter fare sulizzo, la tecnica, e no, questo per dirvi che, non a tutti davano, e la seta e il filo, e secondo me, lei proprio ha visto in me, che potevo farlo, ed il lavoro era rimasta brava, ma io andavo proprio che ero a, per quanto riguarda la tessitura, mamma era un po' più restia, diciamo, soprattutto quando eravamo piccoli, io me ne stavo a volte seduta, anche ore vicino al telaio, e aspettando che magari lei mi dicesse, adesso prova tu, fanni un pezzettino tu, ma non era tutti i giorni che succedeva. Erano dei tempi molto belli, perché Orgosolo era molto viva, anche da un punto di vista culturale, quando noi eravamo giovani, parlo di cineforum, parlo di mostre in biblioteca, noi andavamo sempre ad aiutare, io non ho mai fatto sport, ad esempio, non ho mai bazzecato sulla polisportiva, però io mi ricordo che negli anni 80, ero la più anziana, e avevo 20 anni, di un gruppo teatro, che avevamo fatto, eravamo ragazzini, e avevo 20 anni, ne avevo io, ed ero la più grande, avevamo tradotto Natale in casa Cuppiello, di Edoardo De Filippo, e portato in scena, tutto da soli, tutto inorgoleso, un'esperienza bellissima. Poi quel gruppo teatro, esiste ancora in un certo senso, perché molte persone che ne facevano parte, tra cui io ci sono, però era morto, perché morto, diciamo, la storia era finita, perché dopo il liceo, quasi tutti se ne erano andati all'università. La mia giovinezza, non la cambierei per nessun altro posto al mondo. Ho anche fatto parte, per tantissimi anni, del gruppo dei Giovani di Azione Cattolica di Orgosolo, in quegli anni attivissimo, vivissimo, nel senso che, si lavorava, si lavorava su tutto, si studiava su tutto, cioè, pensa tu oggi, se un ragazzo viene in mente, noi eravamo ragazzi 15, 16, 17, 18 anni, e questo qui fa, allora, invece di studiare solo la nostra di religione, perché non proviamo anche a vedere come sono le altre religioni? e ci avevamo fatto una ricerca sulla, su Budga, proprio, cosa assurda, se mi lo pensavo oggi, no? Senza poi, poi dovevamo andare a studiare, no? Sti, su computer, io che tu e tu, il avas, e di narrava la notizia, passavamo pomeriggi interi in biblioteca, eh? E' un'esperienza bellissima quella del Cineforum, io mi ricordo che il cacciatore, l'ho visto qua nella vecchia biblioteca, anche la biblioteca funzionava molto bene, Poi ecco, vabbè, mi sono sposata, ho avuto tre figli, ho sempre fatto la negoziante, l'ho fatto per vent'anni, questo laboratorio era un piccolo, un piccolo negozio di articoli per bambini, che a Orgosolo andava molto bene, non c'era internet, eh? Di negozi di abbigliamento per bambini non ce n'erano, poi ero abbastanza giovane, quindi magari anche per le mamme della mia età, portavo delle cose che magari, le commercianti di una certa età non portavano, e l'ho fatto fino al 2000. Sempre però ecco, dedicandomi nei ritagli di tempo, a quello che era allevamento del baco da seta, a quello che era tessitura, perché poi ecco, poi mi hanno lasciato, eh? Tessere, colorare, sempre con la guida di mamma, e quindi, niente. Il negozio l'ho chiuso nel 2000, i figli, insomma, sono cresciuti, adesso ho dei figli grandi, sono anche nonna, e oggi posso dedicare tutto il mio tempo a quella che è l'arte della setta ad orgosco. Quasi tutto. Non è stato facile, ve lo dicevo prima, è stato difficilissimo diventare piccolo museo e piccola fattoria didattica, anche da un punto, soprattutto da un punto, da un punto di vista, di vista fiscale, perché come figura lavorativa non esiste una che fa tutta la filiera. Oggi comunque abbiamo risolto questo problema e quindi in questo laboratorio vengono accolte tutte quelle persone che hanno interesse a, a sapere e a vedere quella che è la setta, la setta ad orgosolo. Questi che vedete qua, sono bozzoli di bacco da setta, come vedete sono a bozzolo giallo. La razza che si alleva ad orgosolo si chiama proprio razza orgosolo, porta il nome del paese. Con la setta che si produce si confessiona a telaio giulionzu, che è il copricapo dell'abito tradizionale della donna di orgosolo. Giulionzu è un manufatto in pura setta, prodotto tutto ad orgosolo, si è ordito che tramma sono in setta, l'ordito viene lasciato, poi ve lo farò vedere a telaio qual è l'ordito, l'ordito viene lasciato a colore naturale, essa parte della tramma viene colorata con lo zafferano. Questo è il colore naturale, questa è quella parte di setta colorata con lo zafferano. Allora, si hanno notizie storiche sull'allevamento dei bacchi da setta ad orgosolo già dagli inizi del 1700. A portare la setta in Sardegna furono i gesuiti agli inizi del 1500. Per quanto riguarda l'Italia si va a Marco Polo con la via della setta. Per quanto riguarda il mondo intero sapete benissimo che i primi in assoluto ad allevare bacchi da setta furono i cinesi, quasi 7.000 anni fa. Ad orgosolo perché ancora si allevano bacchi da setta e nel resto della Sardegna no? Perché le donne di orgosolo sono le uniche donne della Sardegna che oltre ad allevare bacchi da setta sono riuscite anche a fare la tessitura della setta. Questo che vedete qua, questi piccoli puntini, questi qua, questi ce li ho qua per farli vedere non dovrebbero stare qua, dovrebbero stare in un posto fresco in cantina. Si chiama Seme Bacchi o Uova. In Orgoleso Zinara Su Zemmene. Poi ci arriviamo a capire come abbiamo ottenuto anche Zusemene. I bacchi da setta nascono i primi di maggio. In Orgoleso Zinara Su Ermedu si nutre esclusivamente di foglie di gelso e mangia foglie di gelso per circa 45-50 giorni. Non dovete pensare ad un grosso allevamento perché lo faccio in casa, come facevano le nostre nonne. Oggi utilizzo quelle cassettine di frutta, quelle basse, che metto una sopra l'altra. Ricordiamoci che il bacco da setta è l'unico insetto addomesticato e quindi ha bisogno della mano dell'uomo per poter vivere. Ha bisogno anche di una certa temperatura. Si va dai 20 ai 22 gradi. Questo ve lo dico sempre perché i bambini tante volte mi dicono eh ma sono andata con un babbo in campagna e ho visto un bacco da setta proprio come il tuo. No, in natura il bacco da setta non esiste più. Esiste il probabile antenato in alcune zone della Thailandia, però ecco oggi è l'uomo che alleva bacchi da setta. Come vi dicevo non dovete pensare ad un grosso allevamento. Io lo faccio in casa come facevano le nostre nonne. Questi bruchi di bacco da setta si nutrono, non solo i nostri, eh tutti, si nutrono esclusivamente di foglie di gelso de muri essa. Noi abbiamo un piccolo gelsetto di famiglia perché la nostra è una tradizione di famiglia. La mia famiglia da parte di mamma noi siamo tessitrici, bacchicultrici da circa 200 anni, Le donne della famiglia di mamma in Orgosolo, Urini, Zermastra, Ardessa, Seda. Eh, ovviamente loro lo facevano come lavoro, eh, perché quello che noi oggi chiamiamo costume era l'abito della donna sposata di Orgosolo, di conseguenza si confezionavano tantissimi copricapi. Del costume comunque se volete ne parleremo dopo. Torniamo all'allevamento. Come vi ho detto allevo in casa, ovviamente devo tenere pulita la stanza dove allevo, oggi devo prestare molta attenzione a quelli che sono i profumi e gli odori della casa, con i detersivi, con i profumatori, ricordiamoci, che è un insetto. Non dobbiamo dargli foglie bagnate, ad esempio, quando piove meglio evitare dargli da mangiare, io preferisco evitare. E dobbiamo prendere anche, possibilmente, dal proprio gelso, dai propri gelsetti, perché tutti quegli alberi di gelso che ci sono anche a Nuoro o anche a Orgosolo, ce ne sono diversi, sulle strade, o nei giardinetti, impiantati dopo, insomma, dopo l'urbanizzazione, perché se noi parliamo degli anni 60, 70, prima dell'urbanizzazione, ad Orgosolo, in quasi ogni cortile c'era un albero di foglia di gelso, perché l'allevamento era diffusissimo, perché come vi ho detto, il copricapo era di uso quasi quotidiano, di uso quotidiano, non quasi quotidiano. Comunque, questi bruchi di bacco da seta, all'interno di questa cassettina, mangiano e crescono. Mangiano tantissimo, in continuazione, sia di giorno che di notte. Arrivati ad un certo punto, si rifiutano di mangiare, non vogliono più mangiare, dalla bocca del brucco, fuoriesce una bava che a contatto con l'aria diventa filo che non è altro che la seta. Ed è allora che dobbiamo preparare quello che in gergo si chiama il bosco, in orgollese usinarada artiare a ghirlanda, a fa e sa ghirlanda. Noi utilizziamo la lavanda selvatica, le facciamo essiccare al sole, le sistemiamo all'interno di grosse ceste e trasferiamo quei bruchi che si rifiutano di mangiare e che già sbavano. Questi bruchi si arrampicano su queste frasche, con questo filo di bava che fuoriesce dalla bocca, prima gettano le loro fondamenta proprio tipo come fanno i ragni, in maniera anche un po' disordinata, poi in maniera sempre più ordinata, nel giro di 4 o 5 giorni ogni brucco produce un bossolo. E siamo quasi a metà giugno, diciamo che siamo 15-20 giugno. Allora, c'è da dire questo, noi non utilizziamo né incubatrici, non forziamo le nascite, quindi la nascita dei nostri bruchi va, per esempio, dai primi di maggio, la nascita, fino quasi al 7 maggio. Quindi sempre abbiamo diverse età di bruchi, poi magari ecco io a metà allevamento, poi cerco di dividere, metto i più grandi in certe cassettine, i più piccoli in altre. Però non è che i bruchi nascono tutti in un giorno e tutti in una volta, come può essere in un laboratorio dove si usano le stanze climatizzate. E quindi anche per quanto riguarda l'imbozzolatura, ci sarà quello che lo farà ai primi di giugno come c'è quello che lo fa il 15 di giugno. Però dopo che ho diviso sulle cassettine, ovviamente, a Saggirlanda, al bosco, al Serano, o farò andare quelli che già vedo che sono cresciuti, ci siamo, bisogna riconoscerli. E niente, quando tutti i bruchi hanno confessionato il bossolo, allora, ogni cesta io la controllo. Quando confessionano il bossolo fanno tantissimo rumore, in genere ci impiegano 4, 5, 6 giorni, fanno tantissimo rumore. Quando si sente meno rumore significa che hanno quasi finito e che quindi posso che hanno finito e quindi posso iniziare a fare la raccolta dei bossoli. In pratica i bossoli, i bruchi, si attaccano alle frasche. La prima cosa che faccio è quella di scegliere i bossoli da cui far nascere per farle maschio e per farle femmine per avere il mio allevamento il prossimo anno. Allora, ovviamente questa scelta posso farla solo a fine allevamento e solo a giugno quando all'interno di questi bossoli c'è quella larva viva che diventerà crisalide e che diventerà farfalla. Allora, si riconosce un bossolo da cui nasce una farfalla femmina perché rimane di forma tondeggiante e un bossolo da cui nasce una farfalla maschio perché rimane di forma più allungata. prendiamo questo in genere si scelgono i migliori più allungata ed anche cinturato al centro. Come vi dicevo questa scelta posso farla solo a giugno e quando all'interno di questi bossoli c'è quella larva viva che diventerà crisalide e che diventerà farfalla. Prendo una cassettina di scarpe e tutti assieme ci metto un foglio di carta bianca e tutti assieme ci metto le mie coppie diciamo 10 ogni femmina depone circa 500 uova e quindi 10 saranno 5.000 10 è l'esempio possono essere anche 15 come possono essere 20 dipende dal tipo di allevamento che voglio fare. In genere io non arrivo a più di 10.000 bossoli 10.000 brucchie perché allevare è pesantissimo nel senso che devi starci sopra per quasi due mesi per quasi 24 ore al giorno da noi viene fatto tutto a mano io ho la fortuna che le foglie me le portano che mi aiutano i miei figli le mie sorelle però sono dei lavori lenti non pesanti lenti e fastidiosi diciamo che occupano molto tempo comunque il tempo che oggi non si ha non sono lavori per i nostri tempi dopo una decina dopo una decina di giorni nasceranno le farfalle abbiamo scelto maschio e femmina di conseguenza si accopieranno le farfalle femmine deporranno il seme bacchi il seme bacchi come vi ho detto da fine giugno va in una specie di lettargo devo riporli in un posto fresco in cantina non in frigo noi abbiamo un sottoscala che da sempre usiamo per il seme bacchi continuo a metterlo lì e va bene lo riporterò poi in un posto più caldo i primi di aprile a temperatura casa diciamo 20 21 gradi tutta la vita della farfalla si svolge all'interno della cassettina qui le farfalle nascono si accoppiano le femmine depongono le uova e qui muoiono sono quelle farfalle pensate quella del bacco da setta non ha neanche apparato boccale per potersi nutrire cosa faccio tolgo le farfalle morte i bossoli i bucatti e come vi ho detto ripongo il seme bacchi in cantina per il prossimo anno vi ho detto che avevo diciamo 5.000 6.000 bozzoli ho scelto 10 coppie quindi 20 su tutto il resto dell'allevamento devo preoccuparmi di fermare il ciclo vitale perché altrimenti tutti sfarfallano e lo sentite questo rumore qui all'interno c'è una larva morta una farfalla non nata perché per produrre setta serve il filo continuo quando fuoriesce la farfalla ovviamente buca il bozzolo e non abbiamo più un filo continuo le nostre nonne per fermare il ciclo vitale mettevano in forno caldo dopo che avevano fatto il pane e uccidevano così la crisalide io oggi metto semplicemente una notte in freezer fermo il ciclo vitale col freddo così posso fare la trattura in orgolesus in araba abo are zeda a che vo are zeda quando voglio perché tanto la farfalla non nasce più altrimenti tutto il lavoro va fatto nell'ultima settimana di giugno se ho 5.000 10.000 bozzoli devo lavorarli tutti in quel periodo se invece fermo il ciclo vitale ho tutto l'anno per poter poi fare la trattura e tirar fuori il mio filo di setta allora per avere un filo della grossezza di un ordito l'ordito è la base della tessitura ed è quella parte di setta che poi noi lasciamo a colore naturale parliamo in grossezza questa grossezza servono un recipiente come questo dell'acqua del fuoco un centinaio di bozzoli un'iscopitta che non sono altro che dei pezzettini di legno è un'aspa che poi è l'aspo come potete vedere anche gli arnesi sono molto semplici e fatti con dei materiali altrettanto semplici cosa dobbiamo fare dobbiamo portare l'acqua quasi ad ebollizione e su quest'acqua dobbiamo immergere un centinaio di questi bozzoli io adesso ve lo faccio qua dopo l'acqua non dobbiamo farla bollire ci facciamo prendere bene l'acqua e con questi pezzettini di legno andiamo a pescarli in questo modo vedete come si attaccano allora cosa succede succede questo che a contatto con l'acqua una sostanza che contiene il bossolo che è una specie di colla che si chiama sericina si scioglie e a contatto con questi pezzettini di legno ci fa trovare il primo filo su apposinara da inorgoleso il capo di tutti i fili che noi riusciamo a prendere ne facciamo un unico filo adesso qua l'operazione non viene ovviamente perché non ho l'acqua perché insomma comunque giusto per farvi vedere voi qua dovete immaginare un'ottantina di bossoli a prima mano devo prenderne almeno 80 è un'operazione che non si ripete perché si spreca tanta seta un'ottantina di bossoli di conseguenza un'ottantina di fili mi tengo il filo in mano i bossoli li riporto sull'acqua ma non il filo e il filo me lo tengo in mano e in sanaspa ne confessiono la matassa ovviamente devo prestare attenzione perché al primo filo della matassa poi andrà l'ultimo filo della matassa quindi questo devo mettermelo bene in evidenza succede questo che i bossoli resteranno in acqua trattenuti dalla pesantezza dell'acqua il fatto che la sericina si sciolga farà sì che con me vengano via solo i filie ed è in questo modo che si confessiona la matassa in genere noi facciamo delle matassine dai 20 ai 30 grammi si lavano in acqua corrente e si fanno asciugare all'ombra la prossima fase sarà quella di metterla nell'arcolaio se ne confessionano tanti gomitoli una parte come vi ho detto diventa ordito e viene lasciata così a colore naturale è inutile che vi dica che tutte le lavorazioni che vengono fatte per poter confessionare poi a telaio giulionzu sono fatte a mano e tutto viene fatto a mano giulionzu è confessionato come veniva confessionato 200 anni fa dalle nostre antenate ovviamente la seta va lavorata prima di tutto va pulita questa è la fase della torcitura questa parte di seta diventerà ordito e questa parte di seta la lascio a colore naturale per quanto riguarda la trama la si lavora in maniera diversa si utilizzano più fili questa parte di seta la si attorciglia meno perché questa parte di seta andrà poi colorata con lo zafferano tutto questo lavoro lo si fa per poter ottenere poi a telaio giulionzu giulionzu è una striscia di seta larga 30 centimetri lungo a 1 metro e 50 completa l'abito tradizionale della donna di Orgosolo è un manufatto in pura seta prodotto tutto ad Orgosolo si confessiona a telaio da ricordare anche che giulionzu è l'unico capo di un costume tradizionale sardo prodotto interamente sul posto perché come avete ben capito qua si fa tutta la filiera dall'allevamento fino al prodotto finito quello che noi facciamo non lo facciamo per caso come vi ho già detto noi siamo tessitrici e bachicoltrici da circa 200 anni le donne della famiglia di mamma per mandare avanti tutto questo molto importante è la famiglia e soprattutto diciamo le mie sorelle qualche mia cugina vi faccio l'esempio l'ultima volta che abbiamo fatto la trattura e l'abbiamo fatta agli inizi di questa estate per avere per fare la trattura di un chilogrammo di setta ci abbiamo ci abbiamo messo sette giorni eravamo in cinque lavorandoci almeno cinque ore al giorno sono dei lavori molto molto lenti io vengo anche aiutata come vi dicevo nel periodo dell'allevamento però sono tutte delle persone che vengono ad aiutarmi non è che io le pago perché non da un punto di vista economico poi i conti non tornano vengono a aiutarmi perché hanno piacere piacere di farlo e perché anche per loro è importante in quanto parte della famiglia che quest'arte non si perda per quanto riguarda poi il fatto della continuità di far vivere quest'arte un'altra generazione noi ce l'abbiamo mia figlia lo fa volentieri ma lo fa volentieri solo non ha tutta la passione che ho io questo bisogna dirlo in quanto siamo diventati museo e fattoria didattica perché è da quello poi che può nascere un posto di lavoro non tanto dalla dalla tessitura di un copricapo che nessuno acquista più un'altra cosa io non faccio diversificazione del prodotto a telaio perché a me sembra disminuire quella che è la bellezza di sull'ionzo e anche perché avrebbe dei costi molto alti è molto facile dire perché non fai sciarpe perché non fai perché non utilizzi per fare delle strisce di tende avrebbero dei costi altissimi comunque a parte i costi può essere anche qualcuno che mi dica il prezzo lo fai tu metti che da me venga dolce gabbana e mi dica chiedimelo tu il prezzo ne voglio 30 metri allora se io faccio come faccio io per farne 30 metri servono tre allevamenti quindi tre anni per la lavorazione se la faccio come faccio io mettiamone altri due per averne 30 metri facciamo un calcolo di 5 anni non so fino a che punto si possa stare sul mercato con questi tempi se poi si tratta di diversificare il prodotto utilizzando telai semi meccanici utilizzando tutto quello che di meccanico con la seta si può utilizzare a me non interessa farlo a me interessa preservare l'arte del solionzo però se noi diversifichiamo in quel modo non esprusso il solionzo perché ovviamente non utilizzerai più la mia di seta che magari non lo so adesso quanto può costare però al chilo deve costare 2000-2500 euro so benissimo che dalla Cina porto con 200 euro un chilo di ottima seta già torcigliata per la tessitura quindi e sminuire quella che è la storia quella che è la cultura secondo me poi ognuno la penso in questo modo quindi per quello la diversificazione la faccio utilizzo la mia parte di seta per confezionare dei gioielli che vendo molto bene sia ai turisti dalle persone che vengono a trovarmi un po' di seta me la acquistano anche quelli delle cantine di Orgosolo perché hanno un'etichetta che è chiusa con la nostra seta non un'etichetta l'etichetta di un vino di un canonau chiuso con la nostra seta che si chiama Urulo mi pare però non è che io ho seta da vendere non ne ho è perché per loro perché sono di Orgosolo perché perché bisogna collaborare perché è bello perché poi anche in quell'etichetta loro raccontano quella che è la storia della seta e quindi però non la vendo la seta che poi è una seta delle volte vengono delle signore anche a chiederle magari un po' ne do però per il ricamo non è adatta perché è una seta grezza come avete notato sull'ionzo è un manufatto che rimane molto rigido non è quella seta a cui siamo abituati a pensare per il ricamo ad esempio non è buona nel periodo della guerra questo lo raccontava sempre nonna quando non arrivavano i filati che servivano per ricamare il costume si è provati ad usare la nostra seta per il ricamo ma il ricamo non viene bene perché è una seta non lavorata purtroppo oggi Giulio Onzu non ha mercato o ha pochissimo mercato ed il mercato è solo Orgosolo quindi quello che noi facciamo o cerchiamo di fare lo facciamo più che altro a livello culturale per tenere viva un'arte io lo dico sempre non fa parte solo della storia e della cultura di Orgosolo fa parte un po' della storia e della cultura della Sardegna perché la seta in Sardegna viene lavorata solo ad Orgosolo io a questo tessuto un piccolo spazio lo metterei anche a livello nazionale credo che sia uno dei tessuti in seta che si confessioni in Italia in maniera così antica e si confessioni soprattutto con una seta che è italiana perché oggi l'Italia si produce le sue sete i suoi broccati i suoi damaschi però l'Italia importa il 98% del filato per le sete che produce dalla Cina non abbiamo più sete italiane filato di seta italiana questo anche per la cattiva concorrenza da parte della Cina dove ti portano delle ottime sete a prezzi stracciati diciamo un'altra cosa che volevo dire è che secondo me queste sono quelle arti che vanno custodite preservate e salvaguardate dico questo anche perché secondo me c'è poca attenzione a quelle che sono le arti che in Sardegna piano piano muoiono soprattutto da parte delle istituzioni io ho trovato in questi vent'anni tantissime difficoltà per riuscire a diventare piccolo museo e fattoria didattica ho trovato solo porte chiuse sia per quanto riguarda anche da un punto di vista economico perché io qua ci ho messo anche dei soldi e ci ho messo dei soldi miei qualcuno mi dirà ci lavori tu però ecco io dico dico anche questo Giulionzo l'arte della seta di Orgosolo non è di Maria Corda non è di Orgosolo è patrimonio di tutti sono quei patrimoni immateriali che sono di tutti che devono far parte della nostra storia e della nostra e della nostra cultura un'altra cosa molto importante e spero che questo riescano a capirlo soprattutto i nostri politici fare impresa oggi non significa solo offrire delle cose materiali a chi viene a trovarci guardate che oggi il turista noi dobbiamo svegliarci perché il turista è una persona acculturata che quando viene in un posto sa cosa c'è in quel posto e cosa vuole vedere di bello in quel posto e di conseguenza sono queste le cose perché loro vogliono quella che è la nostra storia la nostra cultura almeno io parlo per le persone che vengono da me lo dico anche per Orgosolo e stiamo attenti alla fine il porcetto arrosto il pranzo con i pastori può anche non bastare più e quindi se vogliamo che quelle adesso non mi ricordo quante sono chi dice 80.000 chi dice 100.000 quelle che sono comunque io negli ultimi anni ho notato un flusso turistico grandissimo enorme come ad Orgosolo quindi Orgosolo dal turismo può viverci tutto l'anno se vogliamo se facciamo bene le cose speriamo che i nuovi amministratori adesso sono